Ci sarà il simbolo del Movimento Sud protagonista alle prossime elezioni europee del mese di maggio. Ad annunciarlo il segretario federale del Movimento, Salvatore Runghi, durante un incontro con la stampa. L'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania ha deciso così di allearsi con Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, unico partito ad essere attento alle problematiche del Sud Italia. Abbiamo deciso ovviamente di scendere in campo dopo un lungo approfondimento e sosterremo la lista di Fratelli d'Italia. Perché Fratelli d'Italia? Perché oggi è l'unico partito nazionale che si pone effettivamente l'unità d'Italia. L'unità d'Italia non è un fatto storico e né un fatto geografico, è un fatto sociale, cioè quello di raggiungere l'obiettivo dell'equità sociale, economica e quindi di vivibilità. Cosa che oggi manca, c'è una diversità tra Sud e Nord che noi vogliamo colmare. La nostra partecipazione, la nostra presenza in prima fila a queste elezioni europee serve proprio a questo e serve anche a chiedere a Fratelli d'Italia a portare avanti il programma che è nostro, quello del Sud, cioè quelli che sono gli elementi fondamentali per aprire il mercato del Mediterraneo nel nostro Sud, quello della fiscalità di vantaggio per il nostro mezzogiorno e quello del lavoro.